Oggi anticipiamo leggermente un argomento che invece di costruire l'esterno superiore, questo facciamo giovedì, parliamo dei numeri complessi, quindi facciamo l'ultimo passo, il passo che, diciamo, alle superiore avete fatto solo in parte, così come solo in parte avete capito i numeri reali, e introduciamo quest'ulteriore estensione del campo reale. Come è fatto l'insieme dei numeri complessi? Allora, formalmente potrei parlare di coppie di numeri reali e introdurre speciali operazioni, però di fatto, alla fine, il tutto si riduce a scritture di questo genere. Cioè, i numeri complessi sono fatti da una scrittura del tipo A più IB, dove A e B sono numeri reali. I è un simbolo speciale, è un numero speciale che sta nei numeri complessi, si chiama unità immaginaria e non sta nei numeri reali. Va bene? Naturalmente, appena ho introdotto l'insieme, io devo dire cosa ci posso fare. Quello che ci vorrei fare, innanzitutto, sono delle operazioni analoghe a quelle che svolgevo sui numeri reali. Allora, per prima cosa un po' di nomenclatura, prima di introdurre le operazioni. I numeri si chiamano complessi, non perché siano complicati, ma sono fatti di due parti. Quando io scrivo il numero complesso, per numeri complessi in genere si usano lettere tipo Z, W, ω, queste lettere qua, A più IB, Z è il numero complesso. A si dice il coefficiente della parte reale, mentre solo B si dice il coefficiente della parte immaginaria. Allora, potrei anche dire parte reale e parte immaginaria, ma quando dico parte immaginaria ci metto la I. Quando dico coefficiente della parte immaginaria ci metto solo B. Quindi, la parte immaginaria è IB, il coefficiente della parte immaginaria è solo B. Chiaro? Allora, supponiamo di avere due numeri complessi. Allora, ho Z1 uguale A1 più IB1 e Z2 uguale A2 più IB2. Come si fa la somma? La somma, due numeri complessi, per definizione si fa facendo la somma separatamente dei coefficienti della parte reale e dei coefficienti della parte immaginaria. Cioè, il numero complesso somma è un numero complesso la cui parte reale è la somma delle parti reali. il cui coefficiente della parte immaginaria è la somma delle coefficienti delle parti immaginarie. Ci siamo fino a qui? Non è difficile. In qualche modo è come se fosse componente per componente, se vi ricordate la somma delle superiori. Ah, grazie. Dalle superiori. E questo vedremo che è proprio così quando andremo a rappresentare il numero complesso. Ma per adesso voglio prima definire che cos'è il numero complesso. Il prodotto, invece, si fa utilizzando una regola speciale. Cioè, la parte reale è A1, A2, meno B1, B2. Poi, la parte immaginaria è A1, B2, più A2, B1. Qual è la regola speciale che abbiamo usato per ottenere questo risultato? Noi non abbiamo usato altro che il fatto che I per I, lo imponiamo noi, fa meno. Dopodiché, se voi andate a sviluppare A1, più I, B1, per A2, più I, B2, supponendo che valgano le proprietà distributive, la proprietà distributiva, che valga la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma, cosa ottengo, A1 per A2, più I, A1, per B2, più I, B1, per A2, più I per I, che fa meno 1, quindi meno, B1, B2, A1, A2, più I, A1, B2, più I, B1, A2, I per I, fa meno 1, meno B1, B2. Il resto è dovuto semplicemente al fatto che il prodotto sui numeri reali è commutativo, quindi B1, A2, B1 è la stessa cosa, e poi al fatto che la moltiplicazione deve essere distributiva rispetto alla somma, quindi io la I la posso mettere in evidenza. Quindi l'ho scritto così, invece di distributiva, così. È chiaro? Quindi noi operiamo come se siano valide tutte le proprietà di prima e in più ci sia questa proprietà che I per I faccia meno 1. Allora, uno dovrebbe fare un po' di esercizi, questi se volete ve li fate perché sono veramente semplici. Se andiamo a fare, diciamo, la lista delle proprietà di campo, queste due operazioni sono sicuramente associative, sono sicuramente non associative e la moltiplicazione è distributiva rispetto alla somma, valgono quasi tutte, quelle che non sono ovvie le andrò a dimostrare. Perché non vado a dimostrare quelle che sono ovvie? Perché si tratta di fare due punti, oppure si tratta di, praticamente, perché funziona, cioè noi l'abbiamo imposto in questa, imponendo questa regola per la moltiplicazione, noi l'abbiamo fatto altro che sfruttare la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma per la moltiplicazione di un'ideale e imporre che I per I facessi meno. Basta. Quindi è ovvio che non si perde la distributività, la proprietà distributiva. E' così come non si perdono le altre proprietà. Le uniche proprietà che non sono ovvie sono l'esistenza degli elementi inerutri e dell'immerso. Gli elementi inerutri in realtà si trovano subito, queste sono abbastanza ovvie, perché lo zero dei numeri complessi è 0 più 0 I, cioè l'unico numero complesso che ha sia il coefficiente della parte immaginale sia il coefficiente della parte reale uguale a 0. Noi lo indichiamo comunque con 0. Adesso se io vado a fare z dove z è uguale a più i b più 0, questo mi viene a più 0 più i b più 0, quindi viene a più i b. Quindi è chiaro che lo zero dei numeri complessi è l'elemento neutro della somma. Attenzione! Quando lo guardo come numero complesso, il zero non è esattamente la stessa cosa di prima. cioè io posso vedere i numeri reali dove quando andremo a representare si dice in matematica immessi nel campo complesso, ma diciamo, per esempio, quando io vado a studiare un'equazione, una cosa è dire che io cerco le soluzioni numeriche, ma posso dire che io cerco le soluzioni numeriche, ma questo l'abbiamo chiesto. Andiamo a vedere l'elemento neutro del prodotto. L'unità dei numeri complessi non è altro che l'unità dei numeri reali, cioè, diciamo qua, meglio scrivere i per 0 invece che 0 per i. in realtà nella pratica quando ci sono, in genere, quando ci sono le lettere, la lettera si pospone all'unità immaginale, quando ci sono i numeri, in genere si scrivono prima. Cioè, quando io scriverò 1 più 3i, scrivo non 1 più i per 3i, scrivo 1 più 3i, però se scrivo c più id, scrivo c più id, metto prima la lettera i. Però in questo caso voglio mantenere questa notazione perché? Per non creare complesso. adesso andiamo a fare z per 1 con le nuove regole. Quindi, questo lo devo guardare come unità dei numeri complessi. Quindi, devo fare a più ib per 1 più i 0 quindi mi viene a per 1 fa a a per i 0 viene i per a per 0 più i per b per 1 meno b per 0 uguale. Adesso, basta fare i prodotti nei numeri reali a per 0 fa 0 quindi questo pezzo ottengo a più i 0 più b perché b per 1 fa b poi metto la in evidenza poi meno 0 a meno 0 fa b più 0 fa b e quindi rimane a più ib ho fatto quindi se io rispetto sempre la regola che i per i faccia meno 1 a regola che imposto io non succede niente di male. Lo 0 cioè il numero che ha 0 sia come coefficiente della parte reale sia come coefficiente della parte immaginale rimane l'elemento neutro della sua 0 facciamo un po' l'1 nel senso del numero complesso che ha 1 come coefficiente della parte reale e 0 come coefficiente della parte immaginaria è l'elemento neutro del prodotto ovviamente io ho fatto questa verifica dovreste verificare anche che 1 per z va sempre z ma quindi vedete io sono partito da z ho moltiplicato per 1 e rimane z se lo faccio al contrario va bene qua 1 per z come fa z per 1 è uguale a 1 per z è uguale z però a c ok quindi fino ad ora noi abbiamo visto che possiamo aggiungere un numero speciale ai numeri reali quindi otteniamo un insieme più grande questo numero speciale i ha la proprietà che è moltiplicato per se stesso meno questo non introduce alcuna contraddizione come si fanno le addizioni si addizionano separatamente le parti reali e le parti immaginari come si fanno le moltiplicazioni si usa la proprietà distributiva e poi si usa il fatto che i periti faccia meno e poi si riuscita non c'è nulla di particolarmente del tutto detto questo cosa ci manca per verificare che c sia un campo ci mancano verificare che il prodotto sia commutativo però questo è un esercizio banale fate z1 per z2 fate z2 per z1 e vedete che viene esattamente lo stesso risultato e ci manca l'esistenza degli elementi immersi rispetto alla summa e rispetto al prodotto se vi ricordate tutta quella lista tutte le altre proprietà sono più o meno banali che vedete verificate allora chi è l'immerso rispetto alla summa? l'opposto l'opposto è meno z meno z è meno a più b z è sempre questo qui fino a che non lo cancello dalla lavagna z sta impegnato in questo numero complesso qui che non è altro che meno a più i per meno b questo lo denotiamo come meno a meno b meno ib ok? quindi quando devo scrivere i per meno b sinteticamente scrivo meno ib ok? quindi l'opposto per esempio di 1 più 3i è meno 1 meno 3i l'opposto di 1 meno 2i è meno 1 più 2i quindi si cambia il segno sia alla parte reale che alla parte immaginaria adesso se andiamo a fare z più l'opposto o meno z più z questo è uguale ad a più ib più meno a meno ib questo è uguale ad a meno a più i che moltiplica b meno b cioè 0 quindi è ovvio che se la somma faccio parte reale con parte reale parte immaginare con parte immaginare essendo stato definito l'opposto cambiando i segni sia la parte reale che la parte coefficiente della parte reale e la parte immaginare è chiaro che quando vado a fare 0 più il suo opposto o viceversa meno 0 più 0 viene 0 no che vedete viene 0 più i per 0 questo fa 0 più i per 0 che sarebbe quello che abbiamo denotato con 0 dei numeri complessi o invece trovare l'opposto scusate l'immerso rispetto al prodotto non è propriamente banale questa è l'unica vera proprietà non banale le altre qualche cosa ho scritto perché in maniera tale che ci prendiate un po' di familiarità con i numeri complessi non è banale prima di andare a scrivere chi è l'inverso rispetto al prodotto andiamo a rappresentare i nostri numeri complessi dove li andiamo a rappresentare i nostri numeri complessi i nostri numeri complessi li andiamo a rappresentare su un particolare piano cartesiano che chiamiamo piano di Gauss allora in questo piano di Gauss l'unità sull'asse reale è 1 e l'unità sull'asse immaginario è I allora in matematica l'unità immaginare si chiama I e non voglio storie so benissimo che in ingegneria spesso usate diciamo la lettera J per notarla ma sono fatti così ci sono dei punti che non sono validati in tutta la letteratura mondiale matematica l'unità immaginare si chiama I quindi questo fatto lo dovete sapere anche fosse solo storicamente ok quindi come andiamo a rappresentare per esempio il numero 3 allora Z uguale 3 più 2I allora com'è abbiamo fatto in precedenza con i numeri reali soltanto che stavolta noi abbiamo due coordinate quindi come diamo per scontato che tra medie e superiori vi abbiano insegnato a rappresentare i punti con due coordinate il coefficiente della parte reale rappresenta la coordinata sull'asse dell'ascesso e il coefficiente della parte immaginare rappresenta la coordinata sull'asse dell'ordinato che vuol dire che il punto 3 più 2I quando io ho a disegnare la verticale diciamo che la perpendicolare all'asse delle ascisse e questo mi intercetta l'asse delle ascisse sulla coordinata 3 mentre quando vado a disegnare la perpendicolare all'asse delle ordinate questo mi intercetta l'asse delle ordinate sulla coordinata 2 di quest'altra retta ma siccome la retta aveva comunità qua i questo non è 2 ma è 2i quindi questo numero non è altro che 3 più 2i perché 3 più 2i perché nei numeri complessi la somma si fa esattamente come si fa la somma dei vettori sul piano questo da avere parte a fisica alle superiori quindi fare la somma di questi due vettori si fa con la regola del parallelogramma in questo caso il parallelogramma è un rettangolo la somma è questo vettore qui quindi il numero complesso lo potreste interpretare sia come un punto del piano di Gauss sia come un vettore che parte dall'origine che è lo 0 dei numeri complessi e attenta questo adesso se io vado a fare un altro numero complesso per esempio 1 più i 1 più i diciamo che ho fatto il disegno proprio un po' male ah si no no facciamo comunque 1 più 2 i che si vede meglio 1 più 2 i e quest'altro vettore qui 1 2 quando vado a fare la somma come si fa la somma abbiamo detto si fa 3 4 si fa andando vabbè a livello numerico si fa il coefficiente della parte reale alla somma di 3 più 1 quindi fa 4 il coefficiente della parte immaginaria alla somma di 2 più 2 quindi fa 4 quindi arriviamo qui a 4i e il punto somma è questo qui però se noi andiamo a unire questo punto con i precedenti notiamo che insomma se lo fate bene con la carta millimetrata che avete sul vostro quaderno noterete che avete costruito un parallelogramma quindi noi nel fare la somma di questi due numeri complessi e nell'atterrare su questo punto qua non stiamo facendo altro non stiamo dicendo altro che la somma condisponde se lo interpreto come vettore a una delle due diagonali del parallelogramma costruito a partire da così la diagonale più lunga l'altra diagonale allora se questo è z e questo è doppio l'altra diagonale riportata nell'origine se io prendo questo vettore lo traslo nell'origine l'altra diagonale mi rappresenterà o w meno z se la freccia va in qua o z meno w se la freccia va in qua questo è un altro cioè chi è per esempio la differenza 3 più 2i meno 1 più 2i fa 2 allora vedete che se adesso vado a unire il punto 2 con questi punti qua vedete che questo è un altro parallelogramma quindi questo 2 corrisponde esattamente a questo vettore qui ma non qui traslato in maniera tale che la partenza stia nell'origine quindi applicato nell'origine quindi questa diagonale rappresenta z più w quest'altra diagonale rappresenta z meno w se la freccia lo metto al contrario quindi il vettore lo metto dall'altra parte non è altro che il prodotto più o meno z perché infatti la differenza in quel caso fa meno 2 ok quindi ricapitolando abbiamo introdotto questi numeri complessi sotto questa forma abbiamo detto come si fa la somma abbiamo detto come si fa il prodotto abbiamo visto che sostanzialmente se ci organizziamo e facciamo un po' di esercizi sicuramente somma e prodotto rispettano la proprietà associativa la proprietà commutativa l'esistenza dell'elemento neutro della somma è questo qui che chiamiamo 0 quello neutro del prodotto è questo qui che chiamiamo 1 e a tutti gli effetti se io faccio guardate se io faccio il prodotto di due numeri complessi adesso prendiamo un numero complesso lo chiamo 0 da 3 uguale a più i per 0 0 da 4 uguale b più i per 0 cioè ho preso due numeri complessi che stiano sulla retta reale cioè quando li vado a rappresentare se io vedo la parte immaginaria è 0 allora che ne so 0 da 3 sta qua 0 da 4 sta altro ma stanno tutti e due sulla retta reale quando vado a fare la somma e il prodotto qua z3 più z4 non è altro che a più qua chiamiamolo a3 e questo chiamiamo a4 allora questo è a3 più a4 più i per 0 ce lo scrivo i per 0 normalmente non si scrive ma perché ce lo scrivo per farvi vedere che c'è ma fa 0 la parte reale la parte reale immaginaria così come z3 per z4 non fa altro che a3 per a4 meno 0 per 0 più i a3 per 0 più 0 per a4 quindi alla fine quindi alla fine mi viene a3 per a4 più i per 0 con questo cosa voglio dire voglio dire che la moltiplicazione e la somma in questo modo di due numeri complessi che stiano diciamo rappresentati su quello che è la prima l'asse reale che è tutto l'asse reale si fa esattamente come si faceva prima perché o li guardo come numeri reali li chiamo a3 e a4 li moltiplico e trovo il punto a3 e a4 o li guardo come numeri complessi a3 più i per 0 a4 più i per 0 e faccio il prodotto il prodotto mi farà sempre a3 per a4 che è lo stesso punto di prima quindi a tutti gli effetti non solo c contiene r ma si può dire in matematica bisognerebbe specificarlo meglio dire che c'è la funzione che ogni numero di r associa allo stesso numero guardato i numeri complessi è un isomorfismo isometrico però questo diciamo non ci interessa sviscerarlo non è in tentato quello che possiamo dire è che dentro c ci sta r quando scrivo così vuol dire che non è che ci sta r solo come insieme quando io faccio la moltiplicazione in r oppure faccio la moltiplicazione guardo r dentro c e faccio la moltiplicazione in c viene esattamente la stessa quindi si dice che c è immerso tramite il isomorfismo tutta questa roba qui non la dico per appresentire per fare per fare confusione se avessi voluto fare confusione avrei introdotto le coppie di numeri reali avrei fatto la moltiplicazione nascondendo i alla fine poi la coppia 0 e 1 la chiamavo i era ancora peggio però quello che vi voglio far capire è che tutto questo apparato è necessario perché uno deve fare le verifiche noi operiamo a vale delle verifiche che ci dicono che sostanzialmente se passiamo dai numeri reali a ai numeri complessi a più ib con la regola che i per i faccia meno 1 e le altre regole di somma e prodotto definite da queste due definizioni e usando le proprietà associativa computativa distributiva dei numeri reali allora tutto va bene tutto va bene perché qualcun altro avrà fatto tutte le verifiche però vi ho fatto vedere che se volete le verifiche potete farle anche voi eh mettete fate l'esercizio che bene come alcuni esercizietti li ho fatti io adesso tutti quelli che mancano che sono più facili li potete fare da soli o quindi per quanto riguarda la rappresentazione dei numeri complessi abbiamo detto questi rappresentano su questo particolare piano cartesiano il piano di Gauss z1 più in questo caso il numero z più il numero qtv2 v2 si fa prendendo i due vettori costruendo il parallelogramma e prendendo la diagonale del parallelogramma cioè quella che parte dall'origno meglio di del parallelogramma costruito la somma si fa con la regola del parallelogramma per quanto riguarda il prodotto lo vediamo dopo come si interpreta il prodotto perché anche lì c'è un'interpretazione però è prematuro andarlo a scrivere chiaro? ok o sempre in questo piano di Gauss andiamo a fare una semplice osservazione se io ho questo numero complesso z allora z è a più ib quindi questo sarà e questo sarà ib ok? qua dovrei scrivere per precisione x perché le unità sull'asse y sono immaginari ok nel momento che io ho questo numero complesso a più ib posso introdurre delle nuove definizioni mi interessano queste due in particolare la prima è modulo di z modulo di z non è altro che la radice di a4 più di 4 modulo di z non indica altro che in questo piano la distanza dall'origine supponiamo che 1 e i abbiano la stessa distanza dall'origine allora questo cateto di questo triangolo rettangolo è a questo cateto di questo triangolo rettangolo è b ma se io prendo il punto z a più ib quant'è la sua distanza dall'origine è la lunghezza della diagonale del triangolo rettangolo ma per il teorema di p di ancora questa lunghezza fa la radice di a4 quindi questo rappresenta allora per definizione questo si chiama modulo del numero complesso z quindi voi potete questa è una definizione quindi non è che stiamo dimostrando qualche cosa sto semplicemente dicendo che questo modulo in quel piano se avete preso l'unità reale l'unità immaginaria alla stessa distanza dall'origine non rappresenta altro che l'effettiva distanza dall'origine del punto z perché questo sarà lungo a questo sarà lungo b come si fa questa lunghezza la vicinia a4 un altro invece numero che ci interessa è zeta coniugato che ha meno i b cioè chi è questo zeta coniugato non è altro che il numero che si ottiene cambiando disegno alla parte immaginata invece il numero se cambiamo disegno alla sola parte reale non ha un nome particolare invece quello che si ottiene cambiando disegno il coefficiente della parte immaginata si chiama zeta coniugato anche questo per definizione quando scrivo uguale a tempo significa che sto definendo in genere si definisce la quantità che sta a sinistra la quantità che sta a sinistra si definisce come quello che sta scritto zeta coniugato si indica con z con una barra su esempio il coniugato di 3 più 2i è uguale a 3 meno ok allora andiamo a fare lo faccio prima nell'esempio poi lo faccio con le lettere andiamo a fare il prodotto tra zeta e z coniugato vediamo che succede allora cominciamo a fare 3 più 2i per il coniugato di 3 più 2i questo è non è altro che 3 più 2i per 3 meno 2i allora questo quanto mi fa? mi fa 9 poi qua mi viene più 4 perché mi viene più 4? perché viene 2i per meno 2i fa meno 4 ma poi c'è iperi che fa meno 1 meno meno 4 fa più 4 poi viene più i volte allora 3 per meno 2i fa meno 6 più 6 quindi quanto rimane? rimane 13 grazie scoccio un po' qua ce lo faccio entrare viene 13 oh ma questo 13 lo scrivo qua è uguale a 3 al quadrato più 4 più 2 al quadrato ok? cioè mi viene un sospetto questo sospetto lo andiamo a chiarire subito andando a rifare lo stesso prodotto però con le lettere cioè sta volta io vado a fare il prodotto di z per z coniugato questo che è a più ib coniugato di z è a meno ib allora quanto mi viene? mi viene a quadro più b quadro perché i per meno i fa 1 b per b fa b quadro più i volte meno ab più ab allora a per meno b fa meno ab b per a fa b a introdotto il prodotto è comodativo dei numeri quindi scrivo a b quindi questo mi fa 0 quindi se ne va e mi rimane a quadro più b quadro cosa ho scoperto? ho scoperto che z per z coniugato è esattamente uguale al modulo di z al quadrato ecco però noi abbiamo detto z coniugato a modulo quadro è un numero reale prima abbiamo visto che il modulo è reale cioè il quadrato è un numero reale allora chi è l'opposto di un numero reale rispetto dell'inverso rispetto alla moltiplicazione cioè il reciproco di un numero reale si fa come prima perché? perché abbiamo visto che la moltiplicazione tra i numeri reali si faceva come prima quindi cosa mi viene di cosa mi viene il sospetto? mi viene il sospetto lo scrivo ma lo anche verifico è la prima volta anche se abbiamo capito che è vero è sempre meglio fare una verifica in più cioè mi viene in mente che se io adesso faccio se io prendo quest'altro numero w uguale z coniugato fratto modulo z quadro chi sarebbe questo? sarebbe il numero e a come parte reale a fratto a quadro più b quadro e come parte immaginaria i volte b fratto a quadro più b quadro andiamo a fare z per w z per w è uguale ad a più ib che moltiplica a fratto a quadro più b quadro più i volte b fratto a quadro più b quadro uguale allora qua mi viene a per a fa a quadro fratto a quadro più b quadro quando moltiplico i per i fa meno uno ma scusate qua c'è meno che è la z coniugata qua c'è la meno quando faccio i per i per meno i fa uno b per b fa b quadro quindi mi viene a quadro fratto a quadro più b quadro quando faccio questo prodotto qua viene più b quadro fratto a quadro più b quadro poi viene più i volte sotto c'è sempre a quadro più b quadro sopra ci sta ab anzi facciamo prima questo prodotto qua meno ab più ab adesso questo se ne va come prima e cosa mi rimane? mi rimane uno più zero i cioè uno allora chi è questo numero? questo numero non è altro che il reciproco quindi v dobbio cioè questo è uguale a uno su z per quale motivo? chi è il reciproco? è quel numero che moltiplicato per z a sinistra o a destra io l'ho moltiplicato a destra ma se lo fate a sinistra è esattamente la stessa cosa mi faccia l'unità del prodotto l'unità del prodotto era uno quindi chi è il reciproco di un numero zero nei numeri complessi? non è altro che il coniugato fratto il modulo quattro che il reciproco sia unico a questo punto siccome esiste sappiamo che è unico perché se ce ne fossero due no? io avrei w1 per z per w2 questo faccio usando la proprietà associativa fa w1 per z per w2 oppure fa w1 per z per w2 allora siccome z per w2 fa 1 w1 per 1 fa w1 e qua siccome w1 per z pure fa 1 e questo fa w2 questo ragionamento già l'abbiamo usato se non lo capite andate a rivedere quello che abbiamo detto l'altra volta fino a chi non lo capite cioè io sto supponendo che w1 per z faccia 1 e che z per w2 due fa 1 questo indica quindi se w1 è un reciproco sinistro e w2 è un reciproco destra in realtà è un principio quindi ma siccome ogni reciproco deve funzionare sia a sinistra perché a destra due reciproci qualunque devono poi uccidere quindi di reciproco ce ne può stare uno solo o ci potremmo chiedere a questo punto ma mi vuoi fregare perché tu mi hai detto che non tutti gli elementi di un campo hanno il reciproco e infatti anche in c non tutti gli elementi di un campo hanno il reciproco per fare per scrivere questo reciproco noi abbiamo usato il coniugato frazzo modulo di z al quadrato e per poter mettere il modulo di z al quadrato al denominatore cosa ci serve? ci serve che il modulo di z al quadrato senza quadrato faccia 0 sia diverso da 0 ma qual è l'unico numero che ha modulo uguale a 0? l'unico numero che ha modulo uguale a 0 è 0 perché l'unico numero che dista 0 dall'origine è 0 quindi se z è uguale a 0 il reciproco non si può fare come è giusto che non si possa fare perché in nessun campo si può fare il reciproco di 0 mentre invece se z è diverso da 0 allora 4 più di 4 è diverso da 0 lo posso mettere qua sotto perché nella divisione di numeri di arito posso mettere la denominata e quindi ho fatto il mio esercizio e ho scoperto che il reciproco di z danno neanche perché z è collegato fratto modulo di z quadro ci siamo fino a qui quindi cosa abbiamo scoperto? abbiamo giusto 3 minuti per fare il libro noi abbiamo provato a introdurre una specie di numero un numero speciale chiamiamolo così l'abbiamo chiamato i e abbiamo imposto perché ci piace che i per i faccia meno allora facciamo i conti utilizzando anche questo numero speciale come abbiamo fatto i conti? la somma si fa componenti diciamo parte reale con parte reale parte immaginale con parte immaginale parte reale non si possono mai semplificare 3 più 2i rimarrà 3 più 2i da qui fino all'eternità non c'è modo di cambiarlo in qualcosa che abbia solo numeri reali o solo numeri immaginali no complesso perché è fatto di due parti quando vado a sommare parte reale e parte reale si sommano parte immaginale e parte immaginale si sommano quando vado a moltiplicare i per i fa meno 1 non per il resto si usano le proprietà usuale mi faccio un po' di esercizi e che cosa scopro? sostanzialmente scopro due o tre cose scoperte fino adesso prima cosa che con queste operazioni sembra funzionare tutto bene spererei di arrivare a vedere che sia un campo seconda cosa beh i numeri con il coefficiente della parte immaginale uguale a zero cioè quelli che rappresentano nel piano di caso sulla retta reale si moltiplicano si sommano si dividono esattamente come in questo terza cosa i numeri siccome hanno un coefficiente della parte reale e un coefficiente della parte immaginale li dobbiamo rappresentati su un piano questo piano l'abbiamo chiamato piano di caso la somma in questo piano corrisponde alla regola di addivisione comparare la realtà quarta cosa l'unica cosa difficile da trovare è stato il reciproco cioè l'immerzo rispetto al prodotto però in realtà questo inverso rispetto al prodotto è venuto facilmente una volta che abbiamo osservato che introducendo il modulo e il coniugato quando andavamo a fare z per z coniugato viene esattamente il modulo al quadrato quindi dividendo per il modulo al quadrato otteniamo che il reciproco non è altro che z coniugato fratto modulo di z fratto quando andiamo a dividere un numero complesso per un numero reale questo non significa altro che dividere sia il coefficiente della parte reale sia il coefficiente della parte immaginaria per quel numero reale possiamo farlo sempre? no ma è giusto così possiamo farlo solo quando il numero complesso di partenza era diverso da zero quindi si può fare il reciproco di chi è il reciproco di meno i? che è uno il coniugato di i fa meno i il modulo di i fa uno quindi il reciproco di meno i si può fare il reciproco di tre è un terzo si può fare il reciproco di tre i che è meno un terzo i è così si può fare il reciproco di uno più i? sì chi è? uno meno i sul radicatore adesso è uno meno i mezzo perché devo dividere per il modulo quadro ok? il reciproco di uno il coniugato di uno più i è uno meno i il modulo quadro di uno più i fa due quindi uno meno i mezzo lo scrivo qua se z è uguale a uno più i uno su z è uguale a uno meno i mezzo se z è uguale a tre più due i in questo caso uno su z è uguale a tre meno due i fratto tre i l'ho scritto sopra in quell'altro caso vedete è un altro numero perché stiamo parlando un altro esempio questo è un altro esempio piano ok adesso ci ripostiamo dieci minuti lasciamo sedimentare un attimo queste definizioni e poi facciamo l'esercizio